Inter-Salisburgo 4-0, l'Inter vince anche questa seconda amichevole nella tournée di Malta, i gol di Mkhitaryan a Cerbi, un autogol di Bernardo con la complicità di Mkhitaryan che era lì pronto a metterla in rete, poi in chiusura la gioia anche per Carboni che dovrebbe essere il primo gol in prima squadra, almeno nelle amichevole che abbiamo potuto vedere se non vado errato. Un bel gol tra l'altro per il giovanissimo Carboni che ha fatto vedere delle cose a livello tecnico molto molto interessanti. Un amichevole, Simone, da prendere un po' con le pinze, partiamo subito da qui per raccontarla a chi non l'ha vista perché si affrontava un Salisburgo un po' in versione B, mancavano diversi giocatori, tanti giovani in campo, alcuni dei migliori protagonisti di questa squadra erano o sono ancora impegnati al mondiale e quindi non c'erano. Dall'altra parte l'Inter invece ha schierato una formazione comunque credibile perché sì mancavano i Lukaku, i Brozovic, i giocatori impegnati al mondiale eccetera, però c'erano tanti interpreti interessanti in campo. Quindi le valutazioni vanno tarate sicuramente sul livello di questa sfida, però delle buone notizie secondo me si sono viste a partire da aver segnato quattro gol, aver creato varie occasioni perché due sono stati annullati per fuori gioco. Più volte siamo andati vicini nel primo tempo, manca anche nei primissimi minuti un calcio di rigore nettissimo per l'Inter con un fallo di mano non visto, non sanzionato dall'arbitro e un paio di gol ce li siamo mangiati. Quindi si è creato un buon numero di occasioni da gol per l'Inter che ha controllato la partita, dall'altra parte non l'abbiamo subito. E anche questo, eravamo lì pronti ad attendere al Varco appunto la chiusura del match e il clean sheet che fortunatamente è arrivato. Sì esatto, dai alla fine non è male anche questo. Tante cose positive, sì detto ben, al netto della gara amichevole dell'avversario sicuramente rimaneggiato, però anche tante conferme rispetto a soluzioni di gioco e tattiche che abbiamo visto spesso nell'Inter di Inzaghi di questa stagione. La tendenza tra l'altro mi sembra che nonostante manchi un mese alla gara di rientro del campionato, la tendenza è quella di portare avanti anche in queste amichevoli una formazione, come hai detto tu, credibile con delle riserve, perché comunque ci sono delle assenti, ma per più tempo possibile, tant'è vero che i primi cambi sono arrivati all'intervallo ma sono stati Aslani e Gosens, poi i giovani sono entrati verso il settantesimo se non erro, quindi c'è comunque una volontà di far mettere subito minuti nelle gambe. Nei prossimi giorni rientreranno anche alcuni di quelli che abbiamo avuto fuori per colpa del Mondiale e per ora si vedono cose positive. Poi credo che la gara col Betis, essendo contro una squadra di livello ancora più alto e comunque più vicina a rientro in campo, sarà la prima ad iniziare a darci delle risposte un po' più concrete. Comunque tutto bene questa sera sicuramente. Se vogliamo dare qualche indicazione magari a chi non ha visto la partita, dal punto di vista tecnico e tattico ci sono alcune cose secondo me da sottolineare. Intanto la formazione di partenza, il 3-5-1-1. Questa volta il mister decide di non schierare Carboni insieme ad Edin Dzeko come coppia di attaccanti, schierà anzi Mkhitaryan subito dietro Edin Dzeko. Ed è una soluzione che si rivela vincente perché Mkhitaryan, penso lo possiamo confermare migliore in campo perché è andato vicinissimo al gol sullo 0-0. Ne ha segnato uno e mezzo perché uno è stato anticipato da Bernardo sull'autogol. Due gol gli sono stati annullati per fuorigioco di pochi centimetri. Grande partita, sempre presente quello che ha creato i maggiori pericoli alla difesa del Salisburgo. Lo ha fatto sfruttando gli spazi che Dzeko andava a creare con questo movimento a venire incontro sulla tre quarti e Mkhitaryan si buttava nello spazio con grande qualità. Il primo gol tra l'altro si muoveva un gran bel gol. Assolutamente sì, probabilmente passerà in cavalleria come è anche normale. Però se si va a rivedere del replay da dietro si vede che lo spazio per me, per chiuderla lì, non era così ampio. Quindi è l'ennesima conferma del fatto di una cosa che sappiamo, cioè che Mkhitaryan sa giocare a calcio. Banalmente, lo metti ovunque, fa sempre bene. Peccato che appunto non sia più giovanissimo. Però tanta roba, oggi è il migliore sicuramente. Il secondo gol arriva invece, come detto, da un colpo di testa di Acerbi su un'azione di fuorigioco perché comunque il calcio di punizione... Acerbi parte in anticipo, sul secondo palo svetta da solo, ma era nettamente in fuorigioco. L'ultimo gol invece molto bello di Carboni nasce da un errore difensivo forzato da il pressing offensivo di Zuberek e Carboni che sono andati a prestare i difensori del Salisburgo. Rilancio non preciso. Gossens si mangia l'avversario, lo anticipa. Cross in mezzo e Carboni bravo sul secondo palo a chiudere in anticipo col mancino. Il ritmo di gioco non molto elevato, l'Inter comunque ha avuto il controllo e il dominio della gara. Parlerei magari un po' più dei singoli in questo caso, più che del gioco. Va sottolineato, come leggo anche dalla chat, Andanovic. Perché Andanovic ha giocato quasi tutto il primo tempo, più una buona parte del secondo. E ha fatto una gran bella partita, è stato decisivo su un intervento difensivo un po' impreciso di Screener che stava per causare un clamoroso autogol. Andanovic ha avuto una grande reattività e l'ha alzata sopra la traversa molto bene. Poi un paio di interventi anche dopo che sono stati decisivi. Perché nel secondo tempo il Salisburgo era tornato fuori, era cresciuto alla distanza con l'Inter che era un po' calata a livello di ritmo. E soprattutto con Ate, come leggo anche in chat, che stava mettendo in difficoltà un Bellanova che dietro ha dimostrato ancora qualche carenza. Poi se devo sottolineare, Simo, qualche altro singolo che mi è piaciuto, dimmi un po' tu che ne pensi, direi Gosens è entrato bene. Sicuramente, Michi Dario l'abbiamo detto, mi è piaciuto lo stesso Carboni, un buon atteggiamento, ho fatto vedere cose a livello tecnico molto interessanti. Dico, lavoro preziosissimo tra le linee e Di Marco, sempre aperto questo dibattito sulla corsia di sinistra, Gosens è entrato bene, però oggettivamente come fai a togliere quel Di Marco che abbiamo visto nel primo tempo? Il più reattivo, il più veloce, il più anche intraprendente, palla al piede da questo punto di vista, molto molto bene anche lui oggi. Sì, Di Marco non ha mai smesso sostanzialmente, ha ricominciato da dove lo ha lasciato nell'ultima gara e cioè un giocatore che sulla fascia è davvero un flusso continuo, azioni, cross, oggi anche diversi dribbling. Io poi ecco, vedo sempre più in crescita Gosens anche oggi, per fortuna, e quindi di fatto credo che il discorso sulla fascia debba semplicemente continuare su quelle che sono state le premesse, credo anche di buona parte dei tifosi con cui ogni giorno anche noi di Passione Inter dibattiamo, ovvero un'alternanza un po' più frequente, cioè io penso che nessuno voglia vedere Gosens indiscutibilmente titolare. Allo stesso tempo non vederlo mai in campo, o quasi, secondo me è altrettanto un limite, perché comunque sta facendo vedere anche recentemente di esserci mentalmente e psicologicamente, c'è sempre, e questo lo riconoscerò sempre perché non è assolutamente facile, e lui invece c'è, e banalmente si possono trovare delle soluzioni alternative che possono fare il bene dell'Inter tutta, non solo di Gosens, magari anche in abbinamento a qualche alternanza dall'altra parte, o con Bellanova, ma anche con Darmian senza nessun problema, quindi spero che si riparta anche da questo a partire da gennaio. Non so se hai altro da aggiungere, Simo, su questa partita. No, semplicemente è stata una gara contro un Salisburgo che come nome è una squadra sicuramente più importante dello Zira United, ma che poi di fatto aveva fuori tutti i migliori, li avevamo anche citati nel pre-partita, quindi non è stato un vero Inter-Salisburgo, diciamo così, però comunque l'Inter è stata solida e ha fatto vedere anche una certa fluidità di gioco che comunque in una fase di richiamo di preparazione non è necessariamente, diciamo, visibile fin da subito, quindi questa è un'altra cosa. Sì, di sicuro, visto che si è molto parlato di una seconda preparazione per la seconda parte di stagione, non è stata l'Inter che vedevamo in estate, ecco, sicuramente l'amichevole, essendo comunque la seconda amichevole in 48 ore, non è l'Inter che vedevamo più imballata in estate, è normale, si vede che c'è stato un lavoro differente che si arriva già da una buona parte di stagione già giocata. In chiusura, vi ricordo, prossimo amichevole il 17 dicembre, a meno che non ne vengano calendarizzate altre nei prossimi giorni, ma non credo perché l'Inter sarà a Malta fino al 10, probabilmente, e quindi la prossima sarà contro il Betis a Siviglia, ovviamente la seguiremo qui su Passione Inter, nel frattempo si aggregheranno gli altri calciatori al gruppo, quindi Correa ha previsto il rientro nelle prossime ore, Onana tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica anche Lukaku ad Appiano Gentile, in vista poi immagino per tutti, soprattutto per Onana sicuro e a ruota credo anche per Lukaku, il recupero in vista della gara contro il Betis, magari anche solo per uno spezzone comunque per la convocazione, cercando di riavvicinarli al 100% in vista poi del Napoli il 4 di gennaio. Va bene, andiamo in chiusura quindi di questa clip, mi raccomando, iscrivetevi al canale e poi, come al solito, seguiteci ogni giorno in diretta alle 19.30.